Prospettiva Casentino continua ad investire nella vallata del Casentino con i suoi imprenditori e utilizzare gli scarti di lavorazione del panno casentino per realizzare una linea di cappotti sostenibili per cani di piccola e media taglia è stato il progetto vincente di Fare Impresa, Imprenditori si Diventa, promosso da Prospettiva Casentino e dall'Università di Siena. L'idea vincente è dei ragazzi che hanno lavorato con l'azienda Taxe. Il progetto Imprenditori si Diventa è stato veramente di grandissima soddisfazione per noi imprenditori perché oltre alle nostre aziende abbiamo potuto conoscere delle realtà di eccellenza sul territorio casentinese piccole aziende che possono davvero fare grande questa vallata. Il nostro progetto per la Taxe è la produzione di un panno casentino adattato agli animali passando dalla moda per uomo a una rivisitazione per animali come ad esempio cani eccetera. Come Taxe siamo stati subito orgogliosi e contenti di partecipare a questo progetto invitati da Prospettiva Casentino e dalle scuole del liceo scientifico e dell'ITIS di Bibbiena e siamo contenti che questi alunni abbiano vinto proprio con il progetto che riguarda il panno casentino e la nostra azienda. Il progetto per noi ha avuto una valenza davvero molto importante. L'alternanza scuola-lavoro è un'occasione con cui le imprese possono entrare a scuola. Ci ha permesso di mettere in contatto il tessuto produttivo del casentino con gli studenti che hanno partecipato al progetto. Quindi è stata un'occasione molto importante che penseremo sicuramente di riproporre anche negli anni seguenti.